Per il decimo anniversario del terremoto, l'associazione Biker Invasori ha organizzato uno dei più importanti motoraduni della stagione. Domenica 14 aprile, più di mille motociclisti con i loro rombi scalderanno il cuore della città e in particolare Piazza Duomo. Mille rombi e un solo cuore è il loro motto. Noi come associazione sono un paio d'anni che ci muoviamo sulla zona del centro Italia e abbiamo fatto eventi a livello nazionale in posti terremotati come è visto la matrice. La cosa di fare un'invasione, che noi la chiamiamo invasione, che è un'invasione di moto ma è benefica insomma, sono due anni che ce l'avevamo in mente e abbiamo atteso appunto il decennale perché l'Aquila meritava un'invasione con un numero abbastanza pesante di moto. Perciò insomma è stato nell'organizzazione, c'è stato uforia tra le persone e c'è stato uforia anche tra i motoclub del posto, perciò insomma noi domenica 14 il numero dei prenotati sono 1100, perciò insomma sarà un impatto visivo entrando nel centro storico, entrando in Piazza Duomo, è bellissimo. L'associazione No Profit a scopo benefico ha organizzato l'evento con il patrocinio del Comune dell'Aquila, ma ci sarà anche la solidarietà perché l'associazione donerà fondi ai Red Blue Eagles dell'Aquila per l'acquisto dei digni cap macchinari che evitano la perdita dei capelli nei pazienti oncologici trattati con chemioterapia. Siamo venuti a conoscenza della loro magnifica iniziativa che hanno fatto una sottoscrizione popolare di raccolta fondi per l'acquisto dei due digni cap, perciò noi siamo onorati di poter partecipare insomma con i nostri fondi che derivano dall'evento a questa iniziativa. La carovana principale partirà da Roma, ma sono previste partenze anche da altre città. L'appuntamento in Piazza Duomo è dalle 12 in poi.